Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla videorubrica Segnalazioni, ciò che si trova di buono nel web, gettando la rete e tirandola su. Vorrei presentarvi AcheStory. AcheStory è un archivio di strumenti digitali, applicazioni web e per dispositivi immobili, utili alla creazione di storie, storie digitali appunto, insomma, il famoso digital storytelling. E' un'iniziativa abbastanza interessante perché offre una directory di applicazioni ordinate secondo le loro funzionalità, secondo differenti tipologie. Questo è il link per accedere a AcheStory.com. Come vedete il sito presenta differenti categorie, animazioni, plugin, realtà virtuale a 360, gradi, applicazioni per creare storie con l'audio, o con i dati, o con le mappe, timeline, story map, o con applicazioni che permettono di creare contenuti multimediali e così via. Si può esplorare ogni categoria e per ogni categoria troveremo 5, 6, 7, 8 applicazioni con delle informazioni essenziali su ciascuna di esse. Se per esempio vogliamo realizzare una storia e ci servono strumenti come quelli del mapping, clicchiamo, vedete abbiamo 7 applicazioni. Se abbiamo problemi con la lingua, come è il mio caso, basta cliccare col tasto destro, se avete Google Chrome traduci in italiano, e miracolosamente tutto verrà tradotto in italiano. Vedete, non è una traduzione eccellente, ma sufficiente a comprendere. Crea una mappa e aggiungi il Google per raccontare la tua storia. Insomma, tutto sommato è una traduzione abbastanza buona. Se clicco poi su questa applicazione, perché mi interessa, vedete che ho delle informazioni ulteriori. C'è un video di presentazione che mi mostra cosa posso realizzare con questa applicazione, c'è il link ovviamente, c'è una breve descrizione di quello che posso fare, e poi ci sono delle icone che indicano il livello di difficoltà, se si tratta di un'applicazione interattiva o meno, il costo, in questo caso è gratuita, e se può essere incorporata in un sito o in un blog. Come vedete sono informazioni essenziali, torniamo a casa, che però sono sufficienti per dare una prima idea, un'idea approssimativa di quello a cui servono. Ho anche scritto un post con l'elenco delle varie tipologie di applicazione, queste che vedete qui tradotte in italiano, che linkerò nel box descrittivo su YouTube. Quindi interessante per chi nella marea di applicazioni che la rete offre, vuole cercare qualcosa di già attestato. Il sito infatti è realizzato da colleghi, e quindi da persone specializzate che hanno esperienze in ambito formativo, e quindi è affidabile da questo punto di vista, e inoltre viene aggiornato con una certa costanza. Bene, spero che vi possa essere utile questa segnalazione, vi ringrazio, buona navigazione a tutti, comunque è meglio imparare a nuotare, perché si può affogare nel web se si fa naufragio. Arrivederci.